La battipagliese parigia al passena di battipaglia nella primavera amichevole stagionale contro la Calpazio, formazione candidata alla vittoria finale del prossimo campionato di promozione. La gara è giocata su tre tempi da 30 minuti ciascuno e terminata in parità 2 a 2. Per i bianconeri, mattatore dell'incontro è stato David Munar, autore di una doppietta. I gol su punizione dal limite, il primo, poi una serpentina in area di rigore con palla in rite, il secondo. Nel mezzo, la rete del momentaneo pari capacese di Piccariello su calcio di rigore. Dopo una lunga girandola di cambi, una condizione fisica ancora increscendo e un calcio di rigore sbagliato da Piccirillo, la battipagliese ha subito la rete del pari all'ultimo minuto del terzo tempo con Secu. Ora riprende la preparazione in vista dell'avvio del campionato di eccellenza, a breve altre amichevoli per approvare gli schemi e le azioni di gioco.